Cosa è successo a Milena Santirocco, la donna di 54 anni di Lanciano, della quale si erano perse le tracce da domenica scorsa e che è stata rintracciata ieri sera a Castelvolturno. Oggi è stata ascoltata per quasi 8 ore nel commissariato di Lanciano, però non si sa nulla. L'APM è uscita, ha dichiarato pochissime cose, dicendo che c'è il più stretto riservo sulle indagini. Sentiamola. Il pubblico ministero dirò veramente due parole. Il pubblico ministero, il titolare delle indagini, riferisco solo questo, non mi fate altre domande perché altro non posso dire perché siamo sotto indagini. La signora è stata rinvenuta a Castelvolturno, sta bene e a breve verrà riaccompagnata dai familiari. Ok, non posso dire altro. Ma questa ipotesi del rapimento? Non posso dire altro, sono sotto indagini, mi spiace. Bisognerà attendere dunque per conoscere cosa sia accaduto realmente a Milena, che è stata cercata per giorni nel lungomare di Torino di Sangro, nella Leceta, in quelle zone, dove è rimasta ferma la sua macchina con una gomma a terra. Un incubo finito ieri sera, quando la donna si sarebbe recata in un bar di Castelvolturno, chiedendo aiuto, raccontando di essere stata rapita e di poter telefonare ai figli. È stata riconosciuta ed è stata avvisata la polizia che l'ha presa in carico e portata a Lanciano, dove questa mattina, come abbiamo detto, è stata ascoltata per ore dagli inquirenti. Milena è stata accompagnata a casa, dove è arrivato anche il suo legale, l'avvocato Antonio Cozza, che in pomeriggio aveva anche diffuso una nota, dove si legge che i familiari di Milena ringraziano le forze dell'ordine, tutte le persone e i media che si sono impegnati nelle ricerche della donna. La cosa più importante ora è che Milena sta bene e questa mattina fuori dal commissariato anche alcune amiche che vogliono solo riabbracciarla. E qui ci sono, dinanzi al commissariato, due amiche di Milena che hanno atteso, volevano magari vederla, incontrarla, hanno atteso perché hanno seguito. Ecco, lei la conosce bene? Sì, era un'amica di banco, a scuola. Lei? Lei, la stessa. Eravamo tutti e tre amiche, molto unite. Che cosa vi sentite di dire? Cosa pensate? Sì, niente, sicuramente sarà approvata, quindi non sappiamo cosa è successo e non possiamo dire nulla. Voi non vedete l'ora di abbracciarla? Assolutamente sì, certamente, certamente. Ti vogliamo bene, Milena ti vogliamo bene e ti vogliamo soltanto riabbracciare. A più presto. Un bacione grandissimo. Grazie.